I politici tendono sempre a separarsi tra modernisti e conservatori, questo sia nel campo culturale che nel campo politico. A mio avviso questo dipende da un'errata lettura della modernità. I cattolici spesso combattono il pensiero laico ma sono in realtà subalterni al pensiero laico perché condividono pienamente la ricostruzione illuministica della modernità, quella ricostruzione per la quale il moderno nascerebbe come emancipazione dell'uomo da Dio, il Medioevo vede Dio al centro, il moderno vede l'uomo al centro. Questa ricostruzione è una narrazione ottocentesca, postilluministica che viene presa come oro colato dal pensiero cattolico, tanto quello progressista quanto quello conservatore. Ora bisogna decostruire questa narrazione ottocentesca, non è affatto vero che il moderno nasce come emancipazione da Dio. Il 500 e il 600 sono caratterizzati da un'Europa cristiana, cristianissima. Tutti gli autori lo sono. E non è vero che la scoperta dell'America o la scienza moderna siano le cause dell'ateismo moderno. La modernità, ripeto, nasce cristiana ma vede la cristianità divisa dalle guerre di religione che seguono la riforma protestante. Questa è la tragedia del cristianesimo moderno. Due secoli cristiani, due secoli cristiani moderni ma all'insegna di una tragedia, di un conflitto che spiega la seconda modernità, quella illuministica, sì quella laica, che nasce come reazione alla prima. Il problema è che dalla fine del 700 e per tutto l'800 il pensiero laico ha poi svolto una narrazione del moderno che non corrisponde alla genesi della modernità, come se l'intera modernità fosse contrassegnata dal pensiero laico, dal pensiero di un umanesimo che finalmente si libera di Dio, che finalmente accede all'età della ragione e della libertà, che finalmente diventa adulto, per cui la religione è una cosa del Medioevo, dei secoli bui, del periodo dell'oscurantismo, pre-razionale. Ecco questa è la vulgata. Se noi non decostruiamo questa vulgata, se non recuperiamo l'idea che i primi due secoli del moderno sono squisitamente cristiani anche se tragici, che l'età del barocco è l'età di grande splendore, di cultura e così via, se non recuperiamo questo noi abbiamo sempre, noi dico intendo il pensiero cattolico, avrà sempre il complesso della modernità, dovrà sempre chiedere in punta di piedi il permesso di entrare dentro il moderno, con il risultato che alcuni si inginocchiano di fronte alla modernità illuminista ed altri la vedono come il diavolo. E tra queste due componenti ci sarà una dialettica che impedisce un incontro proficuo, critico e positivo ad un tempo con il tempo presente e che permette soprattutto di superare quella dialettica tra progressisti e reazionari che è la vera crisi del pensiero cattolico contemporaneo. Grazie a tutti.